Ciao a tutti, nel video di oggi, Chiara, molto scossa e con un po' di ansia, spiega il motivo per il quale la loro vacanza termina oggi, ed è il perché preferiscono tornare a Milano. Ci vediamo domani con il video completo alle 12.35, buona visione. Ciao guys, buona vigilia, noi quest'anno con le vacanze non siamo particolarmente fortunati, Leo non stava bene, adesso aveva la febbre ieri, oggi non ce l'ha più, ha solo la tosse, però se l'è presa la Vitto. Sono entrambi negativi, però visto l'aspevento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa, preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, si sa mai, speriamo di no, visto che qua siamo un po' isolati, quindi speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l'anno prossimo.